Ben trovati a Sport News, 5 lunghi anni di attesa, tanto è servito ai ragazzi della Synergy e Fermana per tornare sul podio del campionato italiano di Sitting Volley, conquistando un terzo posto alla Final 8 Scudetto, svoltasi lo scorso weekend a Parma. Una medaglia di bronzo sicuramente dalla doppia faccia, gioia e soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto, ma anche un po' di amaro in bocca per aver visto sfuggire nuovamente la finalissima per poco. Occhi puntati ora al 16 giugno, quando arriveranno a Fermo 10 tra i più forti club europei per contendersi l'ambita Euroleague. E dal 2 al 4 giugno si sono tenuti al Palapellicone di Ostia i campionati italiani assoluti 2023 di Karate. L'atleta Andrea Lattanzi, classe 2022 di Corridonia, ma tesserato con la società Spazio Karate di Tolentino, ha ottenuto con una grande performance l'argento nella categoria più 94 kg. Lo ha incontrato ed intervistato per noi Mario Sposetti. È stato un fine settimana importantissimo per te, sei arrivato secondo al campionato nazionale per quanto riguarda il discorso del karate nella categoria 94 kg. Sì, nella categoria più 94 kg sono arrivato secondo e è stata una grandissima emozione, soprattutto perché era la mia terza edizione ai campionati italiani. Negli altri anni sono riuscito ad arrivare alla finale terzo e quinto posto, ma ho perso e quindi sono arrivato al quinto. Quest'anno invece sono riuscito a guadagnarmi il secondo gradino del podio. È stata una grandissima emozione e soprattutto ho tanti sacrifici e lavoro che sono stati ripagati grazie a questa prestazione. Una prestazione importante da tua, peccato che però in finale avevi di fronte un atleta più esperto. Sì, avevo Simone Marino che è attualmente il titolare della nazionale, quindi era un atleta molto forte. Sì, però sull'incontro me la sono giocata fino all'ultimo, però ha primeggiato lui, quindi sarà per l'anno prossimo. Comunque Andrea è un coronamento di tutto il lavoro che giorno per giorno praticamente mette in atto sia con Tomate come prima allenatrice che con Lidio Faroni. Certo, assolutamente. Infatti il merito va anche a loro due, che mi seguono durante tutto l'anno e anche durante le gare, le trasferte e quindi anche durante i momenti duri. Perché nello sport ci sono gioie e dolori e loro sono sempre lì a darmi la forza e continuare per lavorare e migliorarmi sempre. E quindi se questi risultati sono arrivati è anche grazie a loro. Dicevamo appunto che praticamente ora si è arrivato sul secondo gradino più alto per quanto riguarda la competizione continentale e uno sguardo più che mai cominci pure a darlo a livello europeo. Sì, assolutamente. Infatti adesso a settembre andremo a fare una gara a Cipro, che è la Serie A del Karate, che è una competizione, un circuito a livello internazionale dove partecipano i migliori al mondo. E quindi proveremo anche lì a raggiungere obiettivi sempre più alti. Ecco, in attesa di vederti anche il 24 di giugno nella Notte Bianca dello Sport organizzata dal Comune di Torentino, che consiglio ti senti di dare ai giovani affinché possano avvicinarsi alla disciplina sportiva dove tu stai ottenendo buonissimi risultati? Sicuramente la passione perché è uno sport bellissimo e soprattutto è uno sport individuale, quindi sia quando si vince che quando si perde il merito è soltanto tuo e degli allenatori. Quindi è uno sport che ti dà grande gratificazione a livello personale, in più anche a livello extrasportivo ti lascia tanti valori e quindi è uno sport che ha tutto tondo. In più è un'arte marziale e quindi ha sempre il suo fascino. L'ASD Camfermo organizza il primo Memorial Benito Bibini di ciclismo riservato alle categorie esordienti e allievi sabato 10 giugno a Tolentino. Il programma di massima prevede una gara ciclistica su strada tipo pista che si snoderà lungo l'anello di Viale Brodolini in un circuito di 700 metri circa a partire dalle ore 14 ed una gincana promozionale per i non tesserati. E con quest'ultima notizia termina anche questa edizione del Tg, grazie come sempre per averci seguito e buona serata! Grazie a tutti!